La giornata è stata interessantissima, A2A e A2A Smart City in maniera particolare è stata sicuramente piacevolmente colpita dai contenuti degli interessi che sono stati espressi dai tavoli della discussione, abbiamo raccolto informazioni molto importanti, abbiamo portato le nostre esperienze a fattore comune assieme a una serie di altre aziende e di altri utility del territorio, crediamo che la discussione di oggi sia fondamentale e possa costituire un buon punto di partenza per costruire una progettualità in questi territori dove abbiamo visto avere enti in cui c'è un humus di progettualità e di sviluppo sicuramente interessante e quindi giornata assolutamente positiva con la speranza davvero poi di mettere a terra qualcosa di fruttuoso.